Scusate, è il mio banco, permesso, grazie. Allora, lei ha 90 anni, è qua a lavorare in piazza, al mercato, a Bologna, da quanti anni? Avevo sei anni, 84 anni. Diciamo che la pensione potrebbe essere... No, la pensione non mi parlarmi, danno 361. Oh, esagerate. Perché prendo quella di mio marito. Allora, lo Stato ci deve vergognare perché 35 anni ho fatto, 3 e 71, è giusto? No. No. Domenica cosa fai? Grande nonna. Dormo. Mi trovi due minuti per andare a votare? Sì. Chi voti? C'è già. Non so, dimmelo nell'orecchio. Lucia. Non ho detto niente, non ho detto niente. Matteo, Matteo di qua. Matteo, Matteo.